Rifiorisce Corso Vittorio Emanuele a Pescara grazie a un'iniziativa del Comune che vede la piantumazione di alberi lungo una delle arterie più importanti della città. Il sindaco Masci con l'assessore Santiglie e tecnici comunali ha spiegato anche grazie a un video come diventerà Corso Vittorio. I lavori partiranno domani e saranno all'insegna del Verde per riqualificare una zona detto Masci da troppo tempo abbandonata a se stessa. Intanto sottolineiamo che da anni Corso Vittorio Emanuele e anche Corso Umberto presentano una piantumazione rovinata. I lecci sono quasi tutti morti perché sono stati aggrediti dalla Cocciniglia e non c'è stata nessuna possibilità di salvarli ma già da molti anni. Io in campagna elettorale avevo detto che sarei intervenuto su Corso Vittorio Emanuele, su Corso Umberto. Ovviamente occorrono risorse importanti per ricalibrare il verde su queste due vie fondamentali della città. Adesso partiamo con Corso Vittorio Emanuele. Fra qualche giorno saranno tagliate tutte le piante secche che ci sono purtroppo su quella via e a settembre ci sarà la piantumazione di nuove piante, di nuovi arbusti. Così avremo per l'autunno un nuovo Corso Vittorio Emanuele che sarà sicuramente molto più attraente, molto più bello e soprattutto non ci saranno più quelle piante morte che oggi fanno mostra di sé in maniera vergognosa. La piantumazione sarà effettuata, prosegue Masci, con alberi che segneranno il cambio delle stagioni. In modo tale che Corso Vittorio Emanuele possa vivere sempre, possa avere sempre una immagine nuova, fresca e comunque che segue il corso delle stagioni. Noi sul verde abbiamo puntato molto, la città sta cambiando soprattutto in molte zone in cui abbiamo piantumato nuovi alberi, cerchiamo di tenere curata la città, ci teniamo moltissimo perché l'immagine di una città è fondamentale e soprattutto i cittadini ci richiedono di intervenire su molte vie dove le piante sono tutte quante rovinate, sono morte, non sono curate. Noi lo stiamo facendo, man mano sostituiremo tutte le piante che sono morte per avere una nuova città con molto più verde e molto più bella. Grazie